Un sogno. Rielaborazione in formato digitale del precedente disegno su carta. Un'opera tenebrosa dal messaggio subliminale, allusivo, al contempo delicato e sfumato, in un'oscurità soverchiante. Il composto è simbolico, ricostruito con forme geometriche, in uno spazio tridimensionale, assoggettato alla tecnica digitale, da cui ne deriva il gusto estetico, il valore rappresentativo artistico finale. La simbologia è quindi mediata nella nuova tecnica.